Mi chiamo Elio Maraldo, vengo da Castelgofredo Mantova, sono venuto da voi tramite un cugino che è stato già da voi quattro anni fa, che si era trovato benissimo, io ho fatto tutta la bocca, sia la parte superiore che la parte inferiore, mi sono trovato bene. Allora, io sono venuto l'anno scorso in agosto, ho visto che avete un team veramente valido, ragazzi giovani, disponibili, che ti seguono, che ti spiegano tutte le problematiche che tu puoi avere in bocca e ti consigliano, perché io ero venuto con l'idea di fare un lavoro, alla fine con il chirurgo il lavoro è stato fatto in modo diverso, mi ha consigliato di farlo in un certo modo e a dire la verità mi sono trovato benissimo. Adesso sono venuto qua a distanza di sette mesi a mettere i definitivi e mi piacciono, sono belli, sono contento. Lo consiglierei a altri di venire, purtroppo è la distanza ma ne vale veramente la pena.